L'aggiustamento mediatico su quello che vediamo in cielo continua inesorabile. Fino a questo momento si trattava di innocue scie di condensa. Adesso sono rimaste tali, ma come ci informa la BBC c'è un problema. Sono diventate dannose. Tanto addirittura che in una giravolta acrobatica da verigeni sarebbero responsabili del surriscaldamento del pianeta e quindi bisogna intervenire. Leggiamo insieme. Le scie di condensa hanno dato origine a folli teorie cospirative che sostengono che possano controllare la mente e diffondere malattie, ma gli scienziati affermano che il vero problema è il loro effetto riscaldante. I ricercatori sostengono che queste scie fumose raddoppiano sostanzialmente la quantità di riscaldamento provocata dall'uso di combustibili fossili nel settore dell'aviazione. Il problema sarà discusso per la prima volta alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, COP29, che si terrà a Baku. Le scie di condensazione si formano nel cielo nello stesso modo in cui il tuo respiro diventa annebbiato in una mattina fredda. Quando un aereo attraversa aria fredda e umida, le scie di condensa si formano perché il vapore dei motori si condensa sui frammenti di carburante in combusto presenti nel flusso di scarico. Sebbene le cause delle scie siano note da decenni, è solo negli ultimi anni che è stato riconosciuto l'impatto sul riscaldamento climatico di queste nuvole generate dall'uomo. Creano uno strato artificiale di nuvole che intrappola il calore della terra che cerca di fuoriuscire nello spazio, ha affermato Carlos Lopez de la OSA del gruppo della campagna Transport and Environment, che ha condotto uno studio sulle soluzioni alle scie. L'entità del riscaldamento a essi associato sta avendo un impatto pressoché simile a quello delle emissioni di carbonio dell'aviazione. Sono nate teorie cospirative sulle scie. Alcuni sostengono che si tratti in realtà di scie chimiche contenenti sostanze chimiche o biologiche. Secondo le teorie del complotto, lo scopo di queste scie sarebbe quello di sierare le persone, diffondere malattie o controllare le menti delle masse. Tutte queste idee sono completamente false. È un peccato che queste teorie del complotto stiano intorbidendo le acque su una questione su cui abbiamo bisogno di molto consenso e molta chiarezza, ha detto Matteo Mirolo di Breakthrough Energy, uno degli organizzatori di questa discussione all'ONU sulle scie. Le scie sono una teoria infondata, le scie chimiche. Semplicemente non c'è alcun supporto scientifico. È infondata perché non c'è supporto scientifico. Questo evento COP29 mira a richiamare l'attenzione sul fatto che modifiche relativamente semplici alle pratiche di aviazione potrebbero eliminare gran parte dell'impatto sul riscaldamento causato da queste scie. Secondo lo studio che verrà presentato, l'80% del riscaldamento associato alle scie di condensa è generato solo dal 3% dei voli, modificando le traiettorie di volo di una manciata di aerei. Entro il 2040 il riscaldamento causato dalle scie di condensa potrebbe più che dimezzarsi, a un costo inferiore a 4 sterline a volo. La geografia e la latitudine di un volo hanno una forte influenza sul fatto che una scia di condensazione si stia riscaldando. I voli sopra il Nord America, l'Europa e la regione del Nord Atlantico hanno rappresentato più della metà del riscaldamento globale delle scie di condensazione nel 2018, dice il rapporto. Anche l'ora del giorno influenza gli effetti climatici sulle scie. Quelle formate dai voli serali e notturni hanno il maggior contributo al riscaldamento. Anche la stagionalità è importante. Le scie di condensa più riscaldanti tendono a verificarsi in inverno. Gli aerei stanno già volando intorno a temporali e zone di turbolenza, dice Lopez della Osa. Dovremo aggiungere un ulteriore vincolo alla pianificazione del volo, ovvero evitare le aree in cui si formano le scie di condensa. Tra le soluzioni climatiche dibattute alla COP29, questo è senza dubbio una delle più semplici. I ricercatori sperano che organizzando questo evento possano diffondere la consapevolezza del problema e delle soluzioni. Fanno riferimento alle ingenti somme di denaro e alla ricerca investite nello sviluppo di carburanti sostenibili per l'aviazione. Sono convinti che combattere le scie di condensa potrebbe rappresentare un'importante vittoria per il clima a un costo ridotto. Dunque, adesso le scie di condensa non sono più innocue ma vanno combattute. E comunque anche il modo in cui l'articolo racconta la teoria delle scie chimiche fuorviante, il loro legame con il controllo mentale o le malattie è piuttosto poco diffuso nel dibattito. Mentre questo non viene detto, si fa riferimento soprattutto all'influenza sulle condizioni meteo o climatiche. Però intanto un fenomeno fin qui ignorato nella comunicazione pubblica, come le scie, diventato ora sempre più evidente con eventi meteo intensi, diventa improvvisamente fonte di notizie e addirittura utilizzato per confermare la tesi del riscaldamento. Così lo sprovveduto che alzerà gli occhi al cielo magari non sarà sorpreso da quanto vede ma dirà che bisogna fare qualcosa contro il cambiamento climatico. Grazie a tutti.